Chiamo a parlare sul palco Jacopo Romei che ci parla niente po' di meno che di Extreme Contracts. Grazie Jacopo. Ciao a tutti, se siete stanchi questo sabato mattina mettetevi nei miei panni. Il mio aereo ieri notte era previsto per mezzanotte e mezza a Fimicino e ha fatto un'ora di ritardo. Ciao a tutti. Allora, dunque, e non farò altre presentazioni perché un po' il tempo stringe, un po' secondo me la validità degli argomenti che uno porta non dovrebbero dipendere da quello che uno ha fatto prima o ha fatto bene o ha fatto male, nel senso o l'argomento è valido o non è valido. Allora, e poi soprattutto è meno interessante, spero. Allora, Extreme Contracts, allora, vi dico semplicemente che io ho iniziato a fare software nel 96, ho avuto delle aziende, le ho distrutte, poi ho cominciato a fare il freelance, ne ho messa su un'altra, ho lavorato per ebay e vabbè ho alcune passioni tra cui il canto e la vela, ok? Ok, rapidi. Allora, questo è il punto di partenza di questo talk, siamo tutti schiavi, la tocco piano. No, no, perché lo penso veramente. Allora, se vi sembra un messaggio tosto, questa era la slide che avevo in mente di mettere nella prima release di queste slide, poi vabbè ho deciso di metterla comunque. Esatto, esattamente, esattamente. Allora, no, in realtà abbassiamo un attimo i toni. Il problema è che abbiamo delle tendenze a diventare schiavi, ad autoschiavizzarci. Ci sono proprio dei marcatori della schiavitù, di cui non siamo ben consapevoli. Allora, vediamo un po' la definizione, no? Schiavo è chi non ha la possibilità e la capacità di disporre liberamente di sé delle proprie azioni, che non ha o ha perso la libertà e l'indipendenza. Ora, il mio punto principale oggi è che se vendiamo il tempo, ci schiavizziamo. Se vendiamo le nostre giornate, e tipicamente il contratto tempo e materiali è il punto d'arrivo di una carriera, perché in realtà lo ci approdiamo dopo aver abbandonato il contratto a prezzo fisso, in realtà passiamo dalla batella alla brace. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto, se vendiamo il tempo mettiamo un limite al nostro reddito, no? Cioè, siamo tutti d'accordo che 24 ore al giorno, il tempo è proprio super democratico, non importa che lavoro tu faccia, non importa quale sia il tuo stato di censo, insomma, fa sostanza che 24 ore al giorno, 8 vanno dormite, e non è vero mai, bisogna mangiare, avere anche un minimo di relazioni sociali, familiari, insomma, il punto è che non riusciamo a vendere più ore o più giornate di un tot all'anno, o più ore di un tot al giorno. In più, quando vendiamo il nostro tempo, noi sostanzialmente stiamo dicendo a chi, al nostro cliente, se le cose vanno bene, è andata bene. Se le cose vanno male, tu mi cazzierai. Se le cose andranno meglio del previsto, tu ti prenderai i vantaggi di un lavoro fatto con grande valore e io in realtà non parteciperò a quella festa. In più, il fatto che ci sia scarsità di tempo, inerentemente, proprio per le proprietà fisiche del tempo, ci induce sul nostro stato di lavoratori un'ansia, una bulimia di committenza, per cui non riusciamo mai più a dire no alla gente. Io la caratteristica che individuo meno nei miei amici freelance è quella di dire no, sto lavoro no, me fa cagà. No. Chiedo scusa agli amici a casa, però, che in video le parolacce vengono peggio. Però, un po' di turpiloquio. Quindi, finiamo alla fine per avere il problema di dire di no a tutte le nuove proposte che arrivano. E questo è un problema, perché, invece, tutta la sanità dell'essere freelance dipende dalla possibilità di lavorare con chi ci pare. È pur sempre il freelance che è in Roma. Allora, dopodiché, quindi, cosa succede dall'altro lato? Che la domanda in eccesso è una pessima notizia. Ah, oddio, troppi clienti. Ma non si può sentire sta cosa? Troppi clienti non esiste. Troppi clienti significa avere le opzioni di poter dire di no a qualcuno di loro. E quindi, depurare adeguatamente il nostro parco clienti. Ovviamente, se lavoriamo vendendo il tempo, abbiamo il registro presenze, lo chiamiamo per fare i fighetti californiani Silicon Valley, il timesheet. Ma, di fatto, è uno strumento in cui, siccome non c'è fiducia tra noi e il committente, siamo costretti a dimostrare di aver fatto veramente sei ore su quella campagna AdWords lì. Non è il mio lavoro. Faccio un esempio sempre, cerco sempre di calarmi anche nei panni di chi non fa il mio lavoro. Quindi, l'obbligo di presenza è devastante, perché di fatto è la definizione di schiavitù, è di chi, proprio dice si schiavo, l'abbiamo visto prima, chi deve stare in un posto per un tot di tempo comunque. E notate bene, il lavoro da remoto, il lavoro a distanza, il lavoro digitale, ha solo allungato la catena, perché se io devo essere tot ora al giorno, e soprattutto in quel momento preciso che dici tu, a lavorare con te, in chat con te, e sto su una spiaggia di Lampedusa, comunque la spiaggia di Lampedusa, io me la volevo vivere meglio. E poi c'è un devastante effetto Umarell, questo è particolarmente vero nel caso di chi fa i lavori più nerd, se vendi il tempo, ovviamente il cliente vuole sapere, non solo se, abbiamo appena visto, se hai speso quel tempo per lui, ma vuole pure sapere se l'hai speso nella maniera giusta, secondo quello che lui pensa, sarà il lavoro giusto da fare in quell'ora lì, perché io te lo sto pagando, e perché invece di sviluppare nuove funzionalità per il mio software, fai, che ne so, test automatici, refactoring, perché ti preoccupi di imparare un nuovo strumento? Lui ha ragione, lei ha ragione, se noi gli facciamo pagare le ore, lui vuole sapere, o lei vuole sapere, come passiamo ste ore che ci paga, è giusto, e quindi il problema è nell'accordo che abbiamo preso con questo cliente, non nella sua attenzione a come spendiamo il nostro tempo, quindi se vendiamo il tempo, l'indipendenza dalla freelance non ci sta, quanto tempo ho passato? Bene. Allora, il punto è che siccome non sappiamo dare un valore a quello che facciamo, siccome non sappiamo, qual è il valore del copywriting che sto facendo per questo cliente, qual è il valore? E se lo misuriamo in termini di tempo, noi stiamo dicendo qual è il costo, ma se vendiamo i nostri costi, non ce la possiamo fare, cioè vendiamo il tempo semplicemente perché il tempo con l'orologio si può misurare, e il valore di quello che facciamo non sappiamo come misurarlo. La domanda classica, anche quando sei una persona che lavora, che ne so, sviluppi software all'interno, faccio degli esempi estratti al mio background, però sei uno sviluppatore in un'azienda, ti dicono devi sviluppare questa cosa, e tu chiedi al tizio del marketing, o al tizio al commerciale, o al business, che ti chiede queste cose, e dici ma perché stiamo facendo questa cosa? Quanto vale? Boh, che ne so, dobbiamo farla. Cioè è proprio un problema grave, non sappiamo mai rappresentare il valore di quello che facciamo, e questo è il problema da risolvere. Sto per offrirvi delle soluzioni pratiche. Il tempo discrezionale, cioè il fatto di poter gestire il proprio tempo, e assegnarlo alla migliore attività, in base solo al nostro giudizio, è la principale ricchezza di un imprenditore, e i freelance sono imprenditori, monopersona, ma siamo delle micro aziende. A dire il vero, il tempo discrezionale è la risorsa strategica principale, perché ci permette di formarci, e quindi creare il valore che venderemo fra qualche anno, permette di scegliere qual è il prossimo cliente da gestire, ci permette di scegliere quali sono gli strumenti con cui lavorare, e permette di sceglierci per esempio anche con quali collaboratori andare a lavorare. Ora, quindi vendere valore, ok Jacopo, bello tutto, grazie, ma quindi come facciamo? Allora, innanzitutto separiamo obiettivo dal valore, output e outcome. Il valore di quello di cui facciamo non ha quasi mai niente a che vedere, direttamente con il nostro deliverable, con quello che consegniamo. Il programmatore non vende codice, vende l'automazione a dei problemi, l'automazione di soluzione a problemi che sono stati analizzati una sola volta. Il copy non vende parole, il grafico non vende file PSD. Il punto è che dobbiamo proprio separare definitivamente il fatto che, conoscete la business model canvas? Molti. La differenza fra key activity e value proposition non è chiara a tutti quanti. La value proposition è il motivo per cui ci comprano, la key activity è le cose che faccio e che a nessuno importa se tu faccia o meno, per deliverare, per consegnare quella value proposition. Se io risolvo un problema e lo automatizzo, senza scrivere una linea di codice e sono uno sviluppatore, il cliente è contento uguale. La metto giù ancora più dura. Asset. Ah, il nostro codice è un asset, è un valore, è una voce positiva nel nostro bilancio. Non è vero. Gli asset sono quelle cose che più ne hai meglio è. L'oro è un asset. Se ti regalo 10 kg di oro o 100 kg di oro, che preferisci? A parità di problemi risolti, preferisci 10 linee di codice o 100.000 linee di codice? Il codice, il copy, tutti i deliverables sono come i mutui, non ne vogliamo il più possibile. Ovvio che abilitano il fatto che compro casa, ma non è che dici, oh, che figata, oggi ho aperto un mutuo nuovo. Non è l'esecuzione quello che comprano, non è il fatto che io sto lì a passare, non è il sudore della fronte, a loro non frega niente della nostra fatica, a meno che non siano dei pazzi, ma se lavorate per il dottor Mengel, è un problema vostro, cambiate cliente. Soprattutto è caratteristico, del valore, essere generato, anche quando non si suppone che si debba generarlo. Sono sotto la doccia, ho un'ottima idea per un copy e quel valore viene pagato in un contratto tempo e materiali? Il contratto tempo e materiali a ore, a giornate che fate, vi pagano le domeniche in cui vi viene una bella idea perché finalmente siete a fare un picnic e avete liberato la testa dal problema delle bollette? La risposta è no e questo è un problema strutturale, è una disfunzione. in più l'impatto del valore è volatile perché se io faccio un lavoro da 100 milioni di euro oggi, anche se non lavoro più il resto dell'anno, al contrario del tempo, il denaro lo posso risparmiare e diluire in tutti i momenti in cui non lavoro. Il tempo no, un'ora passata male è persa per sempre. Ok, bene tutto. Ho saltato la citazione perché non si leggeva e quindi... Scusate, ho un secchiello di sabbia nella laringe. Allora, concretamente, è evidente che se tutte le situazioni in cui riusciamo a misurare il valore, concretamente è facile. Occhio perché bisogna comunque imparare a vederle queste situazioni, però se collaboro, per esempio, a migliorare un e-commerce, qualunque sia il vostro lavoro, è evidente che a parità di ceteris paribus, a parità di altri parametri, qualunque incremento di produttività di quel business dovuto al nostro intervento può essere misurato e possiamo, questo è importante, chiederne una frazione. Se io procuro a te 100 euro, te ne posso chiedere 80. Se io ti comincio a procurare tutti i giorni 100 euro, e lo stiamo misurando, me ne puoi dare una volta solo 80? La risposta è sì, perché se il cliente rifiuta questa proposta, è matto. no, 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 mi stai chiedendo meno di quello che mi dai, non posso accettare. Altresì, è vero che negoziare è una vera rogna, conosciamo tutti quanti lo stile negoziale che si chiama posizionale, in cui io chiedo mille, tu mi offri 500 e sappiamo entrambi che arriveremo ai 750. Questo è molto comune nell'area del Mediterraneo, anche se in realtà tutta la letteratura in proposito è anglosassone, quindi anche questo alibi del Mediterraneo mi insospettisce sempre. Fatto sta che negoziare in questo modo è veramente detrimentale alla qualità dell'accordo, perché se effettivamente la cosa poi valeva mille e la vende a 750 è un po' una rosicata, in più ci vuole tutto il tempo per arrivare a questo accordo e quindi è poco efficiente. E in più rovina la relazione. Se io penso, il punto è questo, quando io dico questa cosa te la vendo a mille e so che te la venderò alla fine a 750, il passaggio da mille a 750 espone il fatto che sono un cazzaro e quindi nessuno abbandona più la posizione di partenza in un modello di negoziare di questo tipo. Negoziare sul valore invece ci permette di uscire da questa gabbia, ma non si può misurare il mio lavoro, io faccio un lavoro intangibile, ho degli effetti a lungo termine, come quasi tutti noi e bisogna risolvere questo problema. Si possono usare per esempio degli indici, dei proxy, perché sono sempre comunque un nerd, ricordatelo, quindi c'è questa anima sotto, devo capire quanti minuti ho per parlarvi di questo, sei minuti e mezzo un patrimonio. Allora, questo è un caso reale del 2018, allora, una casa editrice ci chiede di aiutarli a fare una, come dire, a rendere più efficienti le loro sei redazioni. Benissimo, c'erano dei problemi, insomma era proprio un problema di ottimizzazione del flusso di lavoro, ha a che fare con il mio lavoro, non vi preoccupate. un amico mi chiama per dire, ah ma senti, facciamo questa collaborazione insieme, sì fantastico, ok andiamo a parlare, oh sono sei redazioni, bisogna stilare nuove regole, eccetera eccetera, adesso ve la faccio semplice, sei giornate con ognuna delle sei redazioni e una settima giornata tutti insieme per fare, quindi fase analitica e poi una fase, una parts construence, una fase in cui diciamo come cambiamo tutti insieme per armonizzare il nostro lavoro. Bene, facciamo un'analisi dei costi e dice guarda saranno 20k mandare due persone sei volte più una fine una grossa plenaria con un po' di facilitatori, eccetera eccetera, 20k facciamo un bel margine del 44%, che voglio dire è un margine pazzesco, siete d'accordo? Perfetto, 36k di preventivo per sette giornate di lavoro, insomma non mi sembra male. Ok, faccio sì però aspetta per tanto, questa cosa qui per loro quanto vale? Boh, ah dannazione, è un problema, perché sarebbe interessante capire quanto vale per loro questa cosa, hanno detto durante la riunione che era un'attività strategica per loro e hanno detto loro di loro spontanea volontà hanno detto che fatturano 220 milioni l'anno, quindi abbiamo un proxy, abbiamo un indice, 220 milioni l'anno potrebbe essere, non è il valore, non è una cosa che possiamo agganciare al valore della nostra attività, però ci permette di fare delle considerazioni che sono queste che seguono. Allora, 220 milioni, Quindi vuol dire che il 10% sono 22 milioni, l'1% sono 2,2 milioni, facciamo uno zoom, 2,2 milioni, vuol dire che lo 0,1% sono 220k, arrivando giù fino allo 0,04%, che significa lo 0,4 per mille, ancora meglio, il 4 per 10 mila del loro fatturato annuo sono 88k. A questo punto è strategico se spendi meno del 4 per 10 mila del tuo fatturato annuo? Già mi permetto, come dire, di valutare che se tu mi chiedite meno voi fatti in building e non è un'attività strategica, andiamo a fare rafting e stiamo a posto. No, è così. Al che, il problema è che loro dice vabbè, Jacopo, però 88k effettivamente non è che la gente li butta così, ok, bello tutto, bravo, Jacopo, bella mossa, però non è che voglio buttare 88k pure se c'è 220 milioni che entrano tutti gli anni, io ho comunque gli stipendi degli stampatori da pagare. e loro a questa proposta hanno detto ma senti, facciamo così, potremmo fare che hanno discusso due cose, l'impatto e cioè hanno detto io vorrei che invece di lavorare solo sui redattori lavorassimo anche con gli stampatori perché vorrei avere una visione olistica, io, ma magari c'è Caschi, bello, molto bello, io l'avrei proposto io, no vi giuro, non è la battuta, l'avrei proposto io se avessi saputo di poter allargare in maniera, come dire, end to end questa attività, questa consulenza, perfetto. non ridete, non sono sarcastico, lo penso veramente, la seconda cosa che invece hanno detto è ok, perché noi abbiamo detto 88k effettivamente non è che non ci conosci, potremmo essere dei mentecatti, facciamo così, la prima giornata delle prime sei te la offriamo gratis, vedi qual è il formato del workshop che abbiamo organizzato, alla fine della prima giornata se pensi che i risultati siano pregnanti, attivi le altre cinque e poi la settima finale. Loro hanno detto beh, però una giornata sola è troppo poco per vedere se siete dei mentecatti, allora ne vorremmo due, certo però due giornate, c'è un concetto che si chiama costo opportunità e dici io non posso non pagare, cioè io ho altra gente che comunque già si fida di me, quindi mi pagherebbero volentieri, facciamo così però, facciamo così, perché bisognava, comunque c'era un'esigenza dall'altra parte, facciamo così, una cifra qualunque inferiore, seguitemi, ai due settimi del budget completo vale come test, se io gli do, mi faccio pagare in maniera lineare, in maniera proporzionale, è evidente che non sto mettendo la mia skin in the game, non ci sto mettendo niente di mio, se per due giornate sole su sette vengo pagato due parti su sette, la mia resa è la stessa, quindi che test è? Quindi abbiamo detto vabbè due giornate 6K, 6.000 euro, ci state? E loro, sì sì, pazzesco, e abbiamo firmato l'accordo. Ora, fra un accordo che partiva da 36K ad un accordo che partiva da 88K, siete d'accordo con me che è andata meglio nel secondo caso? E dovete notare una cosa particolare, loro non hanno assolutamente negoziato il prezzo, hanno negoziato l'impatto, includendo gli stampatori, e hanno negoziato il rischio, chiedendoci come possiamo fare che noi si sia sicuri che questi 88K non li affidiamo a dei deficienti. Bene, ovviamente vi sto risparmiando tutto quello che è successo, invece fra me e il mio amico quando io gli ho portato un preventivo che lui avrebbe fatto a 36K, con queste considerazioni gli ho portato un preventivo a 88K, ma questo è un altro discorso, non c'è più tempo. Ora, ma il mio lavoro non ha valore, quindi non posso fare una... Il vostro lavoro non ha valore, è un altro problema. Se non riuscite a concepire modi per far vedere il valore del vostro lavoro, io assumo che non sia vero che non ne abbia, semplicemente assumo che tutti i neuroni che avete speso per convincere gente a lavorare con voi debbano essere spesi per far vedere alla gente qual è il vantaggio di lavorare con voi. Eventualmente anche mettendoci della skin in the game, noi avremmo lavorato una giornata gratis, volentieri, è una giornata persa, però... domande? Tante, vero? Allora, a parte di tolto, domande veramente? Mancano 34 secondi, questi 34 secondi mentre pensate alla domanda? Allora, io ho il freelance, ho pubblicato un libro che si intitola Extreme Contracts, è in italiano per ora, quindi mi sembra una volta tanto l'audience giusta, c'è questo coupon su... no, il coupon è su Limpub, se volete lo prendete, ho qui le versioni cartacee che posso darvi, cioè posso vendervele, e l'altra cosa, è evidente che sono un tipo penale, non farei un contatto sui contratti, l'altra cosa importante se volete rimanere in contatto c'è questo... c'è questo newsletter, giuro non spam, per ora abbiamo mandato sempre due, tre email all'anno e vi giuro che non saranno mai più di due al mese e niente, spam non te temo, jacoporamai.com in home page c'è il numero di telefono, l'email, proprio sono alla mercede di team, non ci sono veramente domande? Una. Le facciamo, ti dedichiamo un angolo al networking e poi ti fanno le domande. E allora me ne vado, grazie mille, baci, ciao. Grazie. Grazie mille, davvero. Grazie Jacopo. E adesso sono molto felice, ho l'audio, qui si sente, sono molto felice di invitare qui sul palco del freelance camp Maria Carla Giuliano di Medici Senza Frontiere. ecco la che è. Grazie. Grazie.